Beh, sono molto contento di essere stato scelto come Presidente della giuria per questo premio di Gabriele D'Annunzio, ma soprattutto perché è il piacere di trovare in tanti libri che ci sono arrivati la bellezza della voglia di raccontare. Poi abbiamo premiato quest'anno nella narrativa Roberto Vecchioni che per me è stato un premio tutto particolare perché è una persona generosa malgrado la sua grandissima cultura che a volte purtroppo diventa quasi un allontanarsi dalla gente, invece lui è sempre stato veramente speciale in questo.